Qua viene male quello farino. Vai! Ma è un po' bassa! No, è bassa, è più bella quella che teniamo in foto. Dove siamo Fabio? Greenwich. Cioè, America. In the States. Questo cappello Fabio, vogliamo toglierlo Fabio? Quanto l'hai pagato Fabio? Molta sterline. Vergognati. Manco per uno. Penny. Loro osservano la barca di Nelson. No, quella è un po' su. Quella è la casa del Papa. Ma che casa del Papa? L'osservatore. Questo è Fabio Gallo, guardate. Il profilo è proprio bellissimo. C'è il sole. Siamo sottividiamo, che rendete conto. Quale? Chi? Quello di Cullolandia, dove state voi? Glastore. Oh, non è questo qui, ci vogliono tre ore di metro per tutto. Bella. Come c'è finita qui Fabio, vai, racconta. L'hanno portata. E perché? Perché è bella. Riprendi la foto al galletto fatto con i led? Eh, riprendi la foto. Con i led? Ma perché la fai così? Sì, ho il Nando! Non aspetta, dov'è? Zoom un po'? Dov'è? Zoom a dietro. Dov'è? Non la sai usare, non è cosa tua. Eccolo, eccolo. Ok. Il gallo di Nando. Tremo con la mano. Andiamo da Nando a mangiare. Martina? Hai? Hai già 3.000 video di me. No, no, aspetta. Non ti recoglio. Leva lo zoom. Non ti recoglio. Arianna, quanto sei fresca. Mocade, mocade sui sacchi di sabbia. Ma perché riprendi la zona chiusa per lavori? Ma me lo spieghi? Dammi la videocamera. Dammi la videocamera. Quello là che è appena c'è dato al bagno, nudo. Guardalo. Ma chi? Oh, si sta spogliando. Non è, è uscito poco. Non è un bagno, non è un osservatorio. Bagno? L'osservatorio! Oh, l'osservatorio è un bagno. Centimetri! L'osservatorio è un bagno. È un tunnel, leggiamo. Dove va sto tunnel? Non mi dice che va. Non mi dice che è un tunnel. Oh, l'osservatorio è un genio. Oh, l'osservatorio è un hollosensore. Mi dice che va abbastanza col sempre a condicare. stapp here e alla stessa che si era un agoniere. In 받 лег onam bere in avere conozioni, dopo aver nuagina,